La festa di San Michele dopo una settimana di festeggiamenti arriva quasi all'epilolo. Si concluderà infatti questa sera con la presenza anche del sindaco di Reggente. Questa mattina abbiamo potuto apprezzare all'interno del centro storico una delegazione di autodepoca che è stata apprezzata dai tanti intervenuti. Tra tanti giochi dei bambini che attualmente sono in corso che stanno arricchendo e rivitalizzando questa magnifica piazza di San Girolamo. Grazie. Grazie. Grazie.